Tutto ora gli antichi acquedotti romani, a distanza di migliaia di anni, sono perfettamente funzionanti, passati in danni tra terremoti, alluvioni, e catacchismi vari, costruiti usando semplicemente pietre e schiavi, eppure i moderni notebook, fatti usando plastica e schiavi, mostrano i primi acciacchi, nemmeno dopo qualche anno di tranquillo utilizzo. Nello specifico alcuni tasti della tastiera hanno smesso di funzionare, pertanto per alleviare ulteriori inutili fatiche ai suddetti moderni schiavi, mi prodigo in vari tentativi per cercare di rendere quanto meno usabile il malandato computer portatile. Smonto la tastiera, pulisco i contatti elettrici del cavo di collegamento con la scheda madre, smonto e pulisco i singoli tasti non funzionanti, ma il problema persiste, dunque passo il piano B, che prevede la installazione di Linux Mint per poter rimappare la tastiera. In modo da sfruttare i tasti numerici che sono doppi, per trasferirci le lettere non funzionanti, di certo soluzione grezza, ma funzionerà? In pratica ho sfruttato uno dei maggiori punti di forza dei sistemi open source, ovvero che è il poter modificare senza limitazione il codice. Ovviamente è possibile sostituire la tastiera comprandone una compatibile. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che a scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.